Sarà pubblicato nei prossimi giorni il bando per la locazione del bar Chiosco, l'immobile che si affaccia su piazza della stazione e che il comune intendeva vendere, spiega l'assessore al patrimonio Alberto Rizzo. Abbiamo già fatto due tentativi per vendere il bar ma entrambi non sono andati a buon fine, quindi come giunta comunale abbiamo deciso di rimetterlo sul mercato offrendo la possibilità di affittarlo. La scelta del locatore sarà condizionata dall'offerta economica maggiormente consistente. La caffetteria da tempo è gestita dai fratelli Scavino, il contratto d'affitto scade a fine anno, che l'hanno anche parzialmente convertita in ristorante denominato L'Osteria, gestita dal giovane chef Mattia. Il giorno successivo alla scadenza dei termini verranno aperte le buste e sarà assegnato l'immobile. Una fetta di panettoni in compagnia senza farsi mancare un'occasione per fare due salti sulla pista da ballo. Non verrà meno la tradizione degli ultra sessantenni braidesi di festeggiare assieme l'arrivo del Natale. Martedì 18 dicembre, a partire delle ore 15, presso la sala conferenze del centro polifunzionale e culturale Giovanni Arpino, di largo resistenza, musica dal vivo, danze e momenti conviviali sono gli ingredienti per un pomeriggio dove i cittadini di bra meno giovani potranno ritrovarsi e scambiare gli auguri di Natale. Giovanni Arpino, penna affascinante, ruvida e ironica, trascorse la sua giovinezza a bra, città amata e fonte di ispirazione, a cui rimase negli anni fortemente legato. A 85 anni della nascita nel 25 annale della morte, la città della Zizzola rende omaggio al suo grande scrittore con le giornate arpignane. Una serie di appuntamenti con la letteratura organizzati in collaborazione con il Parco Culturale Piemonte Paesaggio Umano, prende spunto dal celebre racconto Il Buio e il Miele, la mostra Il nostro profumo di donna in programma fino al 17 dicembre, a Palazzo Matis, in cui sette giovani artisti locali trasformano in arte le suggestioni di uno dei più celebri testi dell'autore. L'esposizione è visitabile ad ingresso gratuito dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, dalle 15 alle 18, il sabato e la domenica dalle 9 alle 12. Grazie a tutti!